Con un mio allievo stiamo ascoltando un po' di brani perché lui ha bisogno di riconoscere un po' i giri armonici, abituare l'orecchio a capire non tanto il giro armonico di quel brano quando si esegue il tema, ma dopo quando arrivano i solisti che cominciano a interpretare gli accordi e la melodia facendo il proprio assolo, le proprie improvvisazioni. Per chi non è abituato è un po' complicato venirne a capo, a meno che uno non si metta a contare, cosa che consiglio di evitare assolutamente. Se suoni in una band jazz, swing o dixiel o biba o harbo o latin che sia, tu batterista non puoi metterti a contare le misure del giro di blues o del rhythm changes o di strutture diverse con uno space, Ogni brano bisogna fondamentalmente conoscere nella sua struttura, nel suo chorus armonico, dopodiché avere la capacità o istintiva o acquisita attraverso la pratica di memorizzare a orecchio la sequenza degli accordi, evitando di suonare contando le misure. Altrimenti parte della concentrazione che dovrebbe essere destinata a supportare con intuito e creatività i solisti è invece occupata a contare le misure. È una cosa che nel jazz è meglio evitare accuratamente, anche se si suona in big band, dove maggiormente è tutto scritto. Io non suono da anni per scelta nelle big band, gli altrettanti molti anni in cui ho suonato nelle big band di Paolo Tomelleri, di Gianni Basso, di Nick the Night Fly, di Sandro Cerino, di Giuseppe Emanuele, magari in big band nate per un certo evento e poi morte il giorno dopo, il leggio mi ha sempre messo ansia, per cui di natura io ho sempre cercato di memorizzare più in fretta possibile quello che dovevo suonare per prendere la parte e buttarla nell'eccesso. Non sono un gran lettore, quindi avevo sviluppato molto bene la mia capacità mnemonica. Anche in big band, con un repertorio vastissimo, riuscivo a memorizzare tutto dopo qualche lettura, dopo qualche suonata. A maggior ragione nei gruppi piccoli contare è la peggior cosa che si può fare dal punto di vista interpretativo. Con questo mio allievo stiamo appunto affrontando determinati brani, non giri di blues, ma non qualcosa di più elaborato. Il che può essere o un rhythm changes, i ben noti Anatol, A-A-B-A, ma anche brani che hanno delle strutture diverse, tipo I Remember April, T for Two, Chick to Chick, Love for Sale, All the Things You Are e tanti altri. Dobbiamo, questo lo consiglio a chi vuole fare un po' di training, intanto ascoltare i brani senza suonare. Con un bel taccuino distinguere la versione che stiamo ascoltando, le varie sezioni scrivendole. Allora, in questo brano il pianista sta facendo otto misure intro, poi c'è il tema A, poi, beh, c'è un'altra A. Come faccio se perché un'altra A? Beh, di solito la parte tematica principale dura un tot misure, che prevalentemente sono otto, e quella è la A. Solitamente poi questa parte tematica si ripete, ecco la seconda A. Poi c'è l'inciso che cambia completamente colore al brano, cambiano le armonie, cambia la parte melodica, e quella è la B, il bridge. Solitamente poi si torna al tema iniziale, quindi l'ultima A. Ecco, quindi, intro A, A, B, A. Non tutti i brani sono A, A, B, A. Ma ascoltatevi, I remember April, e scoprirete che c'è A, A, B, A, C, D, la Madonna, la dar via Q, c'è tanta roba, ecco. In ogni caso, la seconda fase di apprendimento è provare a suonarci sopra. Se poi, come con questo mio allievo, che poi gli ho detto, ma senti, ma perché non vai a dar via il Q? Ma scusa, perché lui si mette a suonare, deve riconoscere il giro armonico, e intanto fa il comping di Jack Dijonet e Brian Blade messi insieme. Ma a quel punto, ragazzi, quindi il consiglio è questo. Quando vi mettete a suonare per sperimentare quello che può succedere, non mettetevi a suonare duemila robe sul tamburo, sulla cassa, e porca di quella troia, se no, che cazzo non analizzate cosa? Per molti di voi sarà una cosa ovvia. Se io devo analizzare una cosa che non conosco, non mi metto a fare il batterista, mi metto ad accompagnare col piatto bello liscio, fermo, con swing e basta, e nel frattempo il mio cervello sarà concentrato a distinguere e a radiografare le sezioni del brano. Questa è la logica, però alcuni questa logica non ce l'hanno. C'è un disco bellissimo, tra i mille, Oscar Peterson, play Cole Porter, Songbook, poi ha fatto un altro disco bellissimo, plays Count Basie, e poi Jerome Kern, insomma, ci sono tanti dischi meravigliosi che lui ha fatto in studio, che secondo me, per come amo io il trio di Peterson, sono meno interessanti dei live. Perché? Perché in studio il trio di Peterson mi sembra un po' troppo confezionato, con i brani che durano 3 minuti e 25, e con il grandissimo Ed Thickman, che suona fin troppo pulito. Ed Thickman, che stimo e adoro e ho conosciuto, è un indiscutibile maestro di spazzole, un indiscutibile maestro di gusto e di swing, e che sa anche suonare con cattiveria. In certi dischi del periodo in cui era il batterista del trio di Oscar Peterson, suona troppo compito, troppo pulitino, così. Ecco, a me quel modo di suonare dopo un po' mi rompe le palle, lo voglio sentire ogni tanto, voglio sentire che qualcuno tira fuori le unghie e la brutalità della panza, non solo tutto di cervello. Ma, ascoltare Ed Thickman col trio di Peterson serve proprio a comprendere come un'analisi che noi potremmo fare per riconoscere i chorus, debba essere eseguita con il massimo dell'efficienza swing e il minimo del comping delle note e dei casini batteristici che ci viene da fare sempre, anche troppo, noi batteristi microcefali. Ecco.